Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, tutto risolto per le riprese al Palazzo della Bella? Quanto sembra sì, grazie all'intervento della Regione. Oggi abbiamo la visita anche del commissario Marotta, così chiudiamo questa polemica non strumentale, perché poi ho letto alcuni giornali che sembra che il mio intervento sia stato strumentale. È stato un intervento giusto per premere sull'acceleratore per avere la possibilità di utilizzare Palazzo della Bella, quindi nessuna strumentalizzazione. Sembra che ci siamo arrivati e questo ci fa piacere. Una fiction importante, probabilmente destinata a Rai 1, che ricadute avrà sul suo paese? In termini di lavoro già iniziano a vedersi le prime ricadute economiche. È ovvio che con 60 persone che girano questa serie televisiva, che dicono che andrà in onda sul Rai 1 in prima serata, speriamo, ce l'auguriamo, ma avrà anche una ricaduta in termini di immagine, di pubblicità, che al nostro bilancio non fa nessun effetto perché è costo zero. Il nome del paese è Calura, che è un nome di fantasia, non poteva che essere così perché non è ambientato in questo territorio, però l'hanno deciso di girare in questo, mi permetta, splendido paese che è Vico del Gargano, di cui ovviamente noi siamo innamorati e speriamo che molti turisti vengono a visitarci dopo aver visto questa serie televisiva. Grazie. Prego.